Occhio allo schermo signore e signori Vista la svista, errore numero 7 del concorso Aperta la caccia, in bocca al lupo, attenzione Adesso vogliamo ripetermi il metodo della fortuna Più schede invierete, più probabilità di vittoria avrete Mille occhette, mille palloni, 24 topolino vi aspettano Il concorso è un abbiacente, signorica, mi risponda per piacere Imbecille! Ah, ho sentito un rumore Eh, e io ho sentito lo saputo Mi sembra questo il modo di avvicinare e conquistare una donna Ma perché, come si fa? Un pizzicotto E a me, non si fa piatto Ma no, volete vedere come si conquista una donna? Avete un billetto di bambi? No, c'ho un billetto di bragi Avete 5.000 lire? Ma perché, 500 non basta? 5.000? Cinque, ecco, ma vedete ci faccio io. Le vedete queste? Adesso? Non le vedete più. No, no, abbiamo un colpo di vetro, si porti. Ah, che carina. Così si chiama? Ha perduto cinque mila di te. Io no. Pure queste cinque mila di te, le sono sue. Ma non sono mie. Non sono sue? No. Non sono neanche mie? Eh, sono mie. Eppure io devo insistere. Ma non è insistere, sarà il signorino che dice di no, significa che è una brava ragazza. Ho visto io questo foglio volare dalla sua borsetta. Grazie mille. Grazie cinque mila. Scusi signorinale, dove è in diretta? In albergo. Quale albergo? Moderna. Ci sarò. Ci saremo. Ci sarò. Ci saremo. Che? È andata. E con lei le cinque mila linee minie. E che bello conquistare. Vista la svistra?